ciao ragazzi ci ritroviamo ancora una volta per l'allenamento del giorno spero stai bene oggi alla lavagna ho messo Alessia quindi come sempre facciamo un buon riscaldamento occhio a questi movimenti Alessia si è messa alla prova dagli un'occhiata preparati bene che ci vediamo alla forza ciao ciao e questa è la forza ragazzi oggi ho messo il power clean il power clean è una tecnica di sollevamento olimpionica non facilissima magari qualche esperto in ascolto ci darà qualche consiglio in più noi umilmente proviamo Alessia ci ha provato sta imparando anche lei quindi occhio bene a questo movimento se hai bisogno di aiuto su come aumentare la forza o conoscere qualche tuo massimale come calcolarlo puoi iscrivermi sempre sotto preparati bene che ci vediamo al workout ciao ed eccoci qui al workout finale ragazzi una piccola premessa prima io insieme a Super Mario stiamo preparando nella sezione video il coach ti spiega tutti i tutorial su come sviluppare ogni esercizio che vedi nei miei allenamenti infatti già qualcuno da sviluppare vai a vedere sotto ci sono tutti i miei link a tutti i miei canali quindi vai e dagli un'occhiata se ti fa piacere unisciti perché succedono tante belle cose per te che sei amante dello sport vero? quindi vediamo velocemente questo workout finale fatto su cinque giri e ogni tre minuti dovessi sviluppare questi tre esercizi dai un'occhiata ancora una volta ad Alessia se hai qualsiasi domanda tu mi iscrivi sotto ti iscrivi anche al canale vero? fa al massimo lascio mi piace e noi ci vediamo domani allenati bene ciao 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 ciao